Foracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi comprandoli Finalmente in questo video ricchissimo parleremo di nuovo di game hunting e collezionismo Perché vi devo assolutamente raccontare come è andata l'ultima edizione del Game Vintage Market Un mercatino dell'usato specializzato appunto in retro gaming Come al solito c'erano tantissimi espositori, ho visto della roba assurda E sono riuscito a portarmi a casa un bottino niente male Però in più per questa edizione mi ero posto un obiettivo Prendere una playstation vita boxata a meno di 100 euro Ci sono riuscito ma non è stato affatto semplice Oltre a questo però ci sono anche tantissime altre cose e ora vi racconto tutto O meglio vi racconto quasi tutto Infatti il Game Vintage Market è durato due giorni e ho ripreso tantissimo materiale mentre rovistavo tra gli stand Ed è praticamente impossibile riuscire a condensare tutto all'interno di un unico video Quindi mi è venuta in mente una cosa Presto faremo una live dove ci riguarderemo insieme tutto il materiale che ho accumulato In questi due giorni e vi assicuro che lo shorts dove ho trovato a casa un Rule of Rose È solo la punta dell'iceberg Quindi presto vi farò sapere su Instagram quando ci sarà questa live, la sua data Quindi mi raccomando seguitemi anche lì Ah e ve lo dico da subito eh La prossima edizione del Game Vintage Market ci sarà il 14 e il 15 settembre Segnatevi già da adesso questa data Bene, io ho detto tutto Initaziamo! Allora intanto una piccola premessa Innanzitutto grazie mille a tutti quanti quelli che sono passati a salutarmi Perché per me è sempre un enorme piacere scambiare quattro chiacchiere con altri appassionati Inizio a rendermi conto di essere un volto abbastanza noto all'interno del settore E questo mi permette di stringere rapporti anche con gli organizzatori e gli espositori Per quanto possibile evito trattamenti di favore, se ci sono in ballo collaborazioni o ADV ve le segnalo sempre Però ogni tanto ci scampano pure dei regali E sono riuscito a catturare in video un mio momento di grandissimo imbarazzo Una vera perla rarissima Stavo infatti parlando con il mitico Alfonso con cui ho fatto anche altri scambi di cui vi parlerò fra pochissimo E niente mi stava facendo vedere tutto il ben di Dio che aveva portato in fiera Tira fuori una cosa, tirane fuori un'altra, ecco quello che è successo Ecco questa qua, questa ce l'hai Questo qua non è manco più riscattabile Quello per cui io è diventato rarissimo Sì ma ormai lo scorni questo Non puoi più riscattarlo Allora questo te lo regalo, l'ha giù di già la tua collezione Dai vai No 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 Vai, almeno ci fai un video su questo No Io sul momento mi sono vergognato tantissimo Anche perché i regali mi mettono sempre in imbarazzo Però poi alla fine ho accettato Come dicevamo nella clip si tratta di un titolo che ormai ha puro valore collezionistico Infatti all'interno non c'erano i due giochi ma semplicemente dei codici da riscattare per poterli giocare in digitale su 3ds Ora che però tutti i servizi online della console sono stati soppressi da Nintendo Niente questo qua non è più un videogioco ma è semplice archeologia Poi se vogliamo dirla tutta mi sembra di capire che i giochi non erano niente di che Però insomma È roba sealed eppure gratis Regalata Meglio di così Difficile Un pezzo di storia Nintendo che sono felicissimo di mettere in collezione Un altro momento poi che sono riuscito a catturare dal vivo È stato quello in cui mi sono ritrovato davanti Così mi ha preso un colpo Un titolo per Wii U che cercavo da tantissimo tempo A tal proposito se ancora non lo avete fatto recuperatevi immediatamente il mio video dedicato al collezionismo su Wii U Per essere preparati sulla storia che c'è dietro al quasi sconosciuto Rodea The Sky Soldier di Yuji Naka La cosa bella è che stavo frugando in quel bancone da un po' E i prezzi erano stampati su dei fogli a parte che potevano essere liberamente consultati Ancor prima di rendermi conto cosa c'era per Wii U mi sono messo a controllare i prezzi E davvero casualone mi sono soffermato su The Legend of Zelda Che era venduto a un buon prezzo Titolo che tra l'altro già ho Lo vado a cercare così per curiosità nello scaffale Ed ecco che mi rendo conto di avere sotto al naso da circa 10 minuti Rodea Lo tiro fuori e mi prende un colpo a vederlo Pal Ita Corro subito a leggere il prezzo 40€ Ottimo Ancora è incredulo Riesco a prendere anche un piccolo sconto E lo acquisto per 30 o 35€ Non ricordo di preciso Vi ripeto Pal Ita Come si nota anche non solo dal triangolo blu ma anche dalle scritte dietro il box Completo di tutto Quindi dei due dischi che sono il gioco in edizione Wii U e il gioco in edizione Wii C'è anche il manuale E niente di questo sono proprio felicissimo E' proprio un super acchiappo E me lo stavo per far sfuggire Imperdonabile Per quanto riguarda PlayStation 1 invece ormai dovreste aver capito che non cerco titoli rari in assoluto Ma piuttosto quei giochi che hanno segnato le mie giornate da bambino Quando ogni pomeriggio dopo la scuola faceva ancora le elementari Andavo a casa del mio migliore amico e piratavamo di brutto su PlayStation 1 Quindi immaginatevi questa scena C'era uno stand pieno zeppo di roba stra interessante ma roba collezionistica anche di un certo valore Si andava da roba sealed per Game Boy Advance O anche non sealed ma tenuta in condizioni ottime C'era per esempio un Paper Mario per Nintendo 64 nuovo di zecca venduto a un prezzo assurdo C'erano anche dei Game Boy Micro Insomma tutte quelle cose che fanno impazzire tutti quanti Io invece sono rimasto completamente catturato, folgorato e mi stavo sentendo male Quando ho trovato nella zona PlayStation 1 lui No One Can Stop, Mr. Domino Titolo che probabilmente non vi dirà nulla e ci sta In realtà anche io non mi ricordo assolutamente nulla del gameplay di questo titolo Se non che tipo per una settimana quando eravamo piccolissimi Diventò la nostra fissa e ci abbiamo giocato per interi pomeriggi Tra l'altro me lo ricordo anche che era difficilotto e c'era un timer se non sbaglio Che rendeva tutto quanto molto ansiogeno Nonostante il titolo fosse comunque molto colorato e divertente La cosa che proprio mi ha fatto impazzire è che vedere il protagonista mi ha sbloccato un ricordo assurdo Do niente lo devo comprare assolutamente il titolo veniva venduto a 50 euro Non poco infatti si tratta comunque di un titolo non proprio comune per PlayStation 1 Poi per carità i prezzi sono esplosi per questa console Soprattutto se poi uno cerca un titolo completo di tutto tenuto in buone condizioni eccetera eccetera Questa è la versione PAL europea completa di tutto Soprattutto la custodia non è spaccata Una cosa per niente scontata Però sono riuscito ad avere uno sconto con un metodo per contrattare Che vi straconsiglio ed è poraccio al 100% Perché io gli ho chiesto senti ma riesci a farmi uno sconto? E il venditore mi fa Ma no non lo so Ma sai questo è Al che io gli ho detto senti ma chi te lo compra? No one can stop mister domino Quando ti ricapita che qualcuno è disposto a darti i soldi per questo gioco Dai su fammi sto sconto Lui si è messo a ridere e ha detto effettivamente c'hai ragione E quindi l'ho comprato a 40 euro Un pezzo di infanzia che ritorna e il mio full set Nostalgia full set per PlayStation 1 diventa sempre più corposo Sono felicissimo Poi prima o poi faremo un po' riassuntone di come stiamo messi per quanto riguarda la PlayStation 1 Ma prima una piccola interruzione Sapevate che esiste una versione GBA di Valery Irons Protection? Si led 80 bombe Magari nella prossima vita Scrivete pure nei commenti io c'ero Se anche voi all'epoca vi siete ritrovati a giocare su PS1 a questo capolaporo Nella speranza di sbloccare qualche succoso extra nella galleria immagini Se siamo capiti Prima di passare alla PlayStation Vita torniamo ad Alfonso Per uno scambio micidiale ho dato via tantissima roba Principalmente doppioni, titoli incompleti O giochi a cui semplicemente non ero più affezionato Per portarmi a casa tre robette niente male La prima è una copia in perfetto stato di Sonic Advance Anche questo è un titolo non raro in assoluto Ci mancherebbe altro Che però insomma non è affatto semplice da trovare Innanzitutto in versione PAL-ITA Europea-Italiana al 100% E poi soprattutto in condizioni così ben messe La cartuccia già l'ho tolta e l'ho messa nel raccoglitore di carte Dove metto tutte quante le cartucce del Game Boy Dentro abbiamo lo spessore in cartoncino per tenere bloccate le cartucce Un flyer di avvertimenti e roba del genere E poi abbiamo anche il manualino di istruzioni Anche questo praticamente mai sfogliato Il tutto poi rientra nel mio duplice progetto Non solo di trovare quanti più giochi per Game Boy Advance possibili Ma anche di recuperarmi tutti i Sonic in 2D Perché di questa serie mi devo fare ancora una certa cultura Conosco pochissimo Giocai tanto da piccolo uno dei titoli per Game Gear E so che quegli Advance insomma sono considerati come tra i migliori Sonic classici In particolare gli episodi successivi Questo diciamo era ancora un po' un rodaggio su quello che si poteva fare su Game Boy Advance Però comunque si parla di un ottimo debutto Tanto che tra l'altro bellissimo Qua abbiamo anche lo sticker con vuoto di Nintendo Magazine Che aveva valutato il gioco con 9.2 Quindi insomma Tra l'altro era il periodo storico in cui Sonic per la prima volta arrivava sulle console Nintendo Da una parte su GameCube e sulle console fisse avevamo Sonic Adventure 2 Battle Mentre su Game Boy Advance avevamo il Sonic Advance Come recitava la cover di Nintendo Rivista Ufficiale La fine della guerra fredda Un periodo veramente pazzesco Oltre a Sonic per Game Boy Advance abbiamo due bombone Una bombetta, una bombona per GameCube La bombetta, la prima, poi chiamala bombetta insomma È Pikmin 2 versione PAL ITA Tenuto bene Questo è nettamente più raro del primo episodio Mi sa che fu anche un po' un flop rispetto alle vendite del primo Che comunque erano state vendite contenute Completo di tutto Non penso che la serie ormai fortunatamente abbia bisogno di introduzioni Anche perché il quarto capitolo e la popolarità di Switch hanno dato un boost impressionante Alla serie prediletta da Miyamoto Guardate i libretti a colori cos'erano Quanto ci siamo persi per strada Mamma mia Che enorme peccato che queste cose non vengano più messe all'interno dei giochi Libretto tanta roba Che poi, se vogliamo dirla tutta È la terza versione che ho di questo gioco Perché ora ho l'originale GameCube uscito nel 2004 Poi ho il mio Play Control Ovvero la ridizione uscita su Wii Che sfruttava le potenzialità del Wiimote E se c'era una serie che ha giovato da questo passaggio Beh, questa è sicuramente quella di Pikmin E in più, ho pure le remaster in HD Perché c'è stata la collection Pikmin 1 più 2 Apparsa su Switch lo scorso anno In concomitanza dell'uscita del quarto capitolo Quindi si può dire che Boh, sto andando verso il full set di Pikmin Forse adesso ho il full set di... No, ancora no Mi manca pochissima roba Però, insomma Questo è un bel buco tappato all'interno della mia collezione Nintendo GameCube Prima la stavo osservando Siamo intorno ai 60 titoli Insomma, non poco, eh C'ho ancora tantissime assenze Però c'ho pure, diciamo, delle belle roba molto importante Tra cui, l'altra cosa che sono, insomma, molto felice di aver recuperato Non spendendo nulla Dando indietro roba Abbiamo finalmente il Code Veronica X di Resident Evil Il capitolo dimenticato da Capcom stessa È un titolo stra-apprezzato dai fan Io lo giocai su Dreamcast addirittura Appunto, un titolo uscito su Dreamcast Poi riproposto su PlayStation 2 e anche GameCube Che però poi è stato un po' dimenticato dalla timeline ufficiale Dei vari Resident Evil Ci si aspetta sempre che venga fatto prima o poi un remake Ma per ora non se ne sa nulla riguardo Come spesso accadeva per l'epoca Gioco su doppio disco Manuale, se non sbaglio, in bianco e nero Sì, confermo E che succede? Allora, questo qua è l'unico dei Resident Evil su GameCube A non avere un triangolo blu Ma ha un triangolo grigio Secondo me dovrebbe essere tipo viola Però è tendente al grigio Perché è condiviso tra Italia e Spagna Tra l'altro non è né un episodio nuovo Come il Resident Evil Zero Fatto appositamente per GameCube Né un remake come il primo Resident Evil Quello che viene generalmente indicato come Rebirth Uscito sempre su GameCube Ma questo insieme al secondo e al terzo episodio Era sostanzialmente un porting Quindi sono titoli che hanno venduto pochissimo In quanto si trattava dei porting Che all'epoca io mi ricordo Li guardavo sugli scaffali E dicevo ma chi se li comprerà mai questi giochi? Effettivamente non se li ha comprati nessuno E adesso sono ricercatissimi Sono a un passo dal full set Mi manca però il missile vero Ovvero Resident Evil 2 Titolo che poi su tutte le console tende a diventare rarissimo Tranne che su PlayStation 2 Pure la versione per Nintendo 64 è straricercata Resident Evil 2 per GameCube Triangolo blu ormai non si trova Alfonso ne aveva una copia Era senza libretto Tra l'altro seconda volta che incontro Resident Evil 2 senza libretto Ma anche senza libretto è venduta cifre proprio inavvicinabili Quindi per ora il full set rimane un miraggio Però insomma mi sono tolto se non altro Oltre al Code Veronica X Ho anche Resident Evil 3 comprato Quando ancora era straavvicinabile Passettino dopo passettino Ci avviciniamo a una collezione GameCube Sempre più ricchissima E infine prima da PlayStation Vita Un altro recupero Che definirei massiccio E si tratta di uno di quei momenti Che sono riuscito a catturare in cam Perché mentre rovistavo tra dei giochi 3DS Sono stato attirato da un titolo Che appena l'ho visto sono proprio impazzito E dovevo averlo assolutamente Mi riferisco al remake per 3DS di Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser Più le avventure di Bowser Jr Praticamente l'ultima cosa che mi mancava Da aggiungere in collezione Oltre a Paper Jam Bros Per quanto riguarda la saga di Mario e Luigi Un remake di cui abbiamo parlato a lungo Uscito nel 2019 Non se lo è filato nessuno Proprio per questo è diventato rarissimo Trovarlo pal Ita È diventata una cosa proprio improponibile E niente Appena l'ho visto appunto dovevo comprarlo Sono tornato il giorno dopo Per portare al venditore Dei doppioni di Final Fantasy Visto che lui era molto fissato Con la serie di Final Fantasy Gli ho lasciato un Final Fantasy 7 Platinum Tanto sono pieno Sia di Black Label che di Platinum Un Final Fantasy 8 olandese Dietro c'è una storia assurda Però insomma Me ne sono finalmente liberato E un Final Fantasy per Xbox One Che è andato E niente In cambio ho preso questo Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser Pal Ita Complato di tutto Se avete visto l'ultimo Shorts Sapete già che Questi punti VIP In realtà non possono essere i suoi Infatti sono di Pokémon X Molto spesso questi Punti Ho detto punti VIP Ma perché sono vecchio In realtà sono punti del club Punto Nintendo Dicevo Questi Questi flyer molto spesso Vengono scambiati Perché uno può pensare Che siano tutti uguali L'uno con l'altro In realtà poi è riportato Il gioco a cui erano associati Sul retro Quindi controllate sempre Tra l'altro Il servizio è stato chiuso nel 2015 Questo gioco è uscito nel 2019 Sono sicuro al 99% Che in realtà al suo interno Non c'erano Questo flyer Che è stato aggiunto Credendo di completare così La copia Ma in realtà È una cosa non necessaria Semmai Dovrò completare un Pokémon X Parto già avvantaggiato Fatemi sapere Se questo scambio Secondo voi È accettabile o meno Per me assolutamente Tra l'altro Un recupero profetico Perché Un mese Un mezzo dopo Due mesi dopo È stato annunciato Brothership E quindi Dai Forse è stato anche Il marito mio Chissà Non voglio Non voglio insinuare nulla E chiudiamo allora Con lo scambio Che di sicuro Farà discutere tutti quanti Perché Dobbiamo passare Alla star del video Ovvero Sta PlayStation Vita Da prendere A meno di 100€ Allora Riuscire a trovarla È stato un vero parto Perché io non pensavo Ma i prezzi di questa console Sono letteralmente Anzi no Basta dire letteralmente Sono esplosi E qualsiasi modello Uno Va a cercare Sia questo Ovvero il primo modello OLED Oppure Quella che viene indicata Come slim La revisione Uscita qualche anno dopo La commercializzazione Beh si tratta Siamo sempre nel range Di prezzi Tra oltre i 100€ Per una versione Lose Non necessariamente Tenuta bene E oltre i 200€ Per una versione Invece Boxata Completa di tutto Ora Mi sono dovuto ingegnare E ancora una volta Torna utilissimo L'apporto di Alfonso Che Quando il primo giorno È venuto a sapere Che stavo cercando Di insomma Competare Una Playstation Vita Dal nulla Mi ha detto Che mi avrebbe fatto trovare Il secondo giorno Un box Completo di tutto Che mi avrebbe venduto Al prezzo Che lo aveva pagato Spoiler Era pochissimo Ed effettivamente Me l'ha fatto trovare Il secondo giorno Non so se ho la clip Dove richiedo Quanto me lo fai pagare A quanto la fai? Che? Per te Per me? Regalata No 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 Regalata No E lui Me lo regalo ovviamente Grandissimo Alfonso Che proprio Ma ha preso in simpatia Il box è tenuto Ottimamente E completo di tutto Ci sono veramente Troppi flyer All'interno Fidatevi Sono tutti O se comunque Manca qualcosa Ce ne faremo una ragione E il box a sua volta È in condizioni Perfette Non ci sono ammaccature Non ci sono strappi Perfetto così Si tratta però Di il box Di un primo modello Quindi a questo punto Ero costretto A cercare Una Playstation Vita OLED E così ho fatto Ho cercato un po' Di modelli in giro Tra l'altro Ragazzi Il problema Non è tanto trovarla A parte che se ne trovano Pochissime Ma in più Il fatto che molte Hanno problemi Con la batteria Che a quanto pare È uno dei problemi Principali della console Quindi insomma Cerca che ti ricerca C'era chi vendeva Addirittura Playstation Vita OLED A oltre 100€ Con la batteria andata A follia Sono riuscito Ad accordarmi Con un venditore Il bancone Era Return of Old Collections Che mi ha proposto Insomma Un ottimo affare Ovvero Questa Playstation Vita Tenuta in ottime condizioni Con una memory card Da 4GB All'interno Con la batteria Che funziona Qui sono appena morto In unit 13 Caricatore ufficiale Che ha aggiunto lui E anche un FIFA 13 Il tutto Non ricordo bene Se ha un 100 o 120€ Però io dovevo Spendere meno di 100 Mi ero posto Questo obiettivo Quindi ho dato indietro Un Game Boy Tenuto Non benissimo Primo modello Che gli si staccava Lo schermo Però funzionante Questo perché comunque C'ho parecchi Game Boy Da parte E sono riuscito A farmi abbassare il prezzo Fino a 70€ Quindi alla fine Mi sono portato a casa Questa Playstation Vita Primo modello Schermo OLED In ottimo stato Con tanto di scatola Comprate tutto E FIFA 13 E memory card E caricatore Originale A 70€ Dando indietro Un Game Boy So che è uno scambio Molto controverso Vi farà discutere Nei commenti Però era una cosa Che volevo fare troppo Questa è una console Che voglio scoprire A tutti i costi E anzi Già da adesso Mi ci sono messo sotto E vi aspetto nei commenti Per sapere anche qualche consiglio Perché sì Lo so che La vita è vista Un po' come Il nemico Direbbe Richard Benson No La Playstation Vita È vista un po' come Una macchina definitiva Per l'emulazione Però in realtà Sto scoprendo anche Una line up Piena zeppa Di hidden gems E già ho iniziato A recuperare qualcosina Ve l'ho già parlato In alcuni shorts Però ad esempio Abbiamo capolavori Come FIFA 13 O a parte questo Chi era quei che comprai Già a tempo fa Prima di avere la console Questo quasi finito Divertentissimo Abbiamo il particolare Army Corps From Hell Of Hell Anzi Questo che in un certo senso È legato anche Alla storia di Pikmin E questo unit 13 Che vi ho fatto vedere prima Era acceso Dentro la Playstation Vita Che ricorda un po' Socom In realtà Per chi solo ricorda Su Playstation 2 Quindi magari Vi aspetto nei commenti Per sapere Insomma Anche un po' I vostri consigli Per quanto riguarda Collezionare su Playstation Vita Magari nelle prossime Settimane e mesi Potrei fare un po' Un video Riassuntivo Sul collezionismo Relativo alla Playstation Vita Perché comunque So che è una console Ricercatissima E che attira Tantissima attenzione E che mi sto divertendo Molto A riscoprire Detto questo Questi erano tutti I miei recuperi Acquisti Regali Scambi Fatti al Game Vintage Market Vi aspetto nei commenti Per sapere che cosa ne pensate Se video sui mercatini Dell'usato Vi interessano Vi piacciono Comunque iscrivetevi Se siete nuovi Perché conto di portare Altri contenuti del genere Ormai lo faccio Da un botto di tempo Chi c'era Quando andavo in giro Per negozi francesi Nel 2018 Vi aspetto nei commenti Vi ringrazio Per essere arrivati fino in fondo Vi ringrazio Soprattutto per essere passati Al Game Vintage Market Ringrazio Alfonso E tutti gli espositori Della fiera Per tirare su Un appuntamento Che ormai è diventato Proprio imperdibile Tra l'altro Ci rivediamo Il 14 e il 15 settembre E niente Grazie anche a Cesare Che anche se a distanza Mi ha dato un aiuto Incredibile E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Che arriverà quando arriverà Buona frattempo Mi raccomando Fate i bravi Riposatevi Dormendo Soldi tranquilli Ma soprattutto Nerdate duro Nerdate duro Io sono Il Poro Game Vintage Michele Market Ciao Ehi 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 Fermo Se questo tipo di video Ti piace Prendi in considerazione L'idea di supportarmi Sul Porion Il Patreon De Poracci Con un piccolo Contributo mensile Mi puoi aiutare Enormemente Nella creazione Di video qua sul canale E in più ricevi In cambio Delle ricompense Di tutto rispetto Come retroscena Anteprime E anche live esclusive Dove andremo insieme A caccia di retro game Ti lascio il link In descrizione E ricordati Che Poracci Si diventa Insegnato una chicchetta Insegnato una chicchetta In convince